Sono Corrupolo Martina, sono numero 18, sono appena uscita dal casting come si può vedere dalla mia mano, sono ancora piena di trucco, è stata un'emozione grandissima, pazzesca, mi sono tanto divertita, sono riuscita penso a dare il meglio sulla mia modella che era già bellissima, però l'ho resa molto sexy, molto anni 50, c'è stata una grossa empatia fra di noi e sono tanto contenta. Finalmente è finita, quindi domani Barcellona, finalmente si fa un po' di vacanza perché devo dire che è stato veramente un percorso più impegnativo di quello che mi immaginavo, mi sono tanto divertita però ho tanti contenuti, tante cose da imparare, alla fine dei conti è solo un punto di inizio e quindi c'è tanto da lavorare.